Continuiamo con il calcio a Prato, c'è il terzo allenatore di questa stagione, oggi Francesco Monaco ha diretto il suo primo allenamento in sostituzione di Roberto Malotti che ha rescisso e conosciamo dunque il nuovo allenatore biancazzurro. Francesco Monaco è il nuovo allenatore del Prato, arriva a rilevare il testimone da Roberto Malotti, una situazione piuttosto deficitaria di classifica, non è un compito facile quello che le attende? Sì, questo lo sapevo e me l'ha anche ribadito il Presidente quando mi ha chiamato, per cui so che non è facile, però sono convinto che c'è sia il tempo per rimettere in gareggiata la squadra e soprattutto la voglia di ricominciare. Torno in Lega Prato dopo un paio di anni ma in questa categoria, chiamata in altri modi nei tempi passati, è stata protagonista, l'abbiamo vista qui a Prato, nel bene e nel male per quanto la riguarda sia il timone della Cararese che batte il Prato nel playoff di C2, sia con il Piacenza che perse il playoff di C1 ma anche in precedenza, insomma lei successi con l'Ancona, giocatore la Lucchese, che campionato ritrova e che cosa si aspetta di fare con questo Prato? Innanzitutto sono contento di ritornare in questa categoria e poi è normale che noi non dobbiamo pensare troppo a lungo, cioè dobbiamo pensare una partita alla volta e cercare di trarre il massimo di una gara iniziando già da domenica prossima, per cui sono contento, però nello stesso tempo so che è una bella patata da bollente, però sono contento di averla presa. Che cosa conosce di questo Prato? A dire la verità poco, a parte i giocatori che si conoscono, che hanno un curriculum importante, ho visto qualche partita in televisione e poi abitando ad Ascoli ho seguito più il girone B. Dal punto di vista tattico come pensa di impostare il suo lavoro? Beh, innanzitutto penso di partire con la difesa a quattro, poi sia in mezzo che davanti vediamo un attimo di sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. La scelta di Monaco è stata in primo luogo quella del Presidente Radici che l'aveva già avuta lo scorso anno la Prosesto? Sì, l'anno scorso noi quando mi ha chiamato, era febbraio, siamo riusciti a centrare un obiettivo importante perché quando sono arrivato eravamo nei play-out, dopo siamo riusciti a salvarci una settimana d'anticipo, abbiamo avuto un buon rapporto, molto schietto e molto probabilmente il mio modo di fare ha convinto il Presidente a richiamarmi. Non attende, come ho detto, un compito facile, bocca al lupo. Crevo il lupo. Crevo il lupo.